Ciao a tutti ragazzi, bentornati a un nuovo video di Fonica School. Siamo molto contenti di iniziare oggi la seconda delle tre serie di video che abbiamo inaugurato con il primo video Production Tricks. Da oggi cominciamo anche questa nuova serie che invece andrà a trattare essenzialmente di mixing e mastering. Vedrete che tra poco inizierà appunto anche la terza dove ci andremo a concentrare invece sugli aspetti del sound design. Ovviamente come sempre vi ricordiamo di inviarci domande, quesiti o anche argomenti da trattare, cercheremo il più possibile di rispondere ovviamente a tutte quanti di diciamo assecondare il più possibile le vostre richieste. Ora poiché questa parte di mixing e mastering sarà ovviamente molto tecnica in alcune parti e ho deciso di iniziare i primi video cercando di darvi alcuni concetti che secondo me sono cruciali e quasi basilari per poter poi capire molte delle tecniche che andremo ad analizzare nei video successivi. Oggi voglio parlarvi in particolare di Gain Structure. Cosa si intende con questo nome che penso molti di voi hanno già sentito o dove non l'aveste sentito, insomma è un concetto molto utilizzato e spesso abusato tra chi lavora appunto nel campo dell'audio. Il Gain è sostanzialmente il volume del nostro segnale, quindi è l'ampiezza, diciamo l'amplitude del nostro segnale audio. Ora dobbiamo tenere a mente, ovviamente in tutte le fasi, sia dal recording, passando appunto per il sound design, mixing fino alla finalizzazione del brano e al mastering, bisognerà stare attentissimi al modo a cui diamo appunto importanza al gain, in cui gestiamo il gain dei vari canali e poi ovviamente anche del mastering finale, quindi insomma dell'insieme dei vari canali in quello che viene tecnicamente chiamato il mix bass e poi vedrete il master. Ora potrebbe sembrare un concetto banale, tant'è che spesso mi trovo anche a lavorare con professionisti che mi rendo conto sottovalutano l'importanza di appunto di questo concetto, ma vedrete che invece è uno dei concetti forse cruciali e che se gestito correttamente fin dall'inizio vi consentirà di ottenere dei risultati molto migliori che appunto di quelli che otterreste se non faceste caso a questo importante concetto. Innanzitutto in questo caso ho creato un piccolissimo loop molto semplice che adesso vi farò ascoltare con il quale vi voglio fare un po' di esempi ma non è quello ovviamente l'importante, ma una cosa a cui voglio subito farvi fare attenzione è l'utilizzo di alternative al fader semplice appunto del nostro mixer per gestire i gain di ingresso e di uscita nei vari plugin. Ora per chi utilizza Ableton abbiamo il nostro magico utility che troviamo appunto nella sezione utilities all'interno degli nostri effetti audio e che utilizzeremo tantissimo anche per altri scopi ma che per oggi ci serve per semplicemente gestire appunto il gain all'interno di ogni canale. Perché è importantissimo utilizzare l'utility? Perché dobbiamo subito ricordarci che ovviamente il fader per quanto importantissimo gestisce il gain quindi il volume del nostro canale soltanto decidendo il volume che poi andrà a confluire nel canale master ed eventualmente nelle nostre tracce di ritorno anche se pure l'insomma potrebbe esserci poi vedrete più avanti una doppia opzione. Ma ovviamente il fader non gestisce invece i gain all'interno dei miei vari effetti. Cioè facciamo finta appunto che io voglio andare a processare ad esempio il mio kit di batteria e quindi adesso potrei decidere di mettere distorsori, compressori, equalizzatori, insomma chi più ne ha più ne metta. Ecco che in quel caso l'utility torna di grandissima utilità proprio per decidere come la nostra struttura del gain, la nostra gain structure si comporta durante tutta la catena di effetti. Quindi volevo subito porre l'attenzione su questo, su questo diciamo importante concetto e farvi notare che qualsiasi software voi andrete ad utilizzare, possa essere esso Logic, Protocols, Cubase, avrete sicuramente da qualche parte un utility ovviamente avrà il suo nome specifico che vi consentirà fra le varie anche di gestire ovviamente il gain all'interno della catena di effetti. Ora vi faccio sentire rapidamente un loop molto semplice. Allora innanzitutto mi rendo conto subito di un problema e l'ho fatto appositamente, abbiamo un piccolissimo clip, quindi una piccola distorsione digitale sul nostro master, sul nostro mix bus. Quindi la prima cosa che farò è appunto andare sul master e gestire immediatamente con un utility gain senza toccare il mio fader per cui potrò recuperare qualche db, tecnicamente vado a recuperare quella che viene chiamata headroom, cioè concetto molto importante nell'audio, intendiamo con headroom lo spazio sostanzialmente che ci rimane fra il picco più alto del nostro segnale che viene appunto indicato da questo indicatore e lo zero. Qui adesso vedrete che avendo abbassato di 5 db abbiamo più o meno 5 decibel 4.78 appunto di headroom. A questo punto però voglio ovviamente andare a lavorare nei singoli canali. Per esempio potrei decidere di andare a dare un po' di carattere alla mia batteria magari comprimendola leggermente, distorcendola e mettendo un equalizzatore. Ora nel fare questo mi rendo conto subito innanzitutto di un problema che non ho alcuna headroom per lavorare perché la mia batteria si trova già a 0 db. Ora questo è un problema classico che trovo in tutti i miei studenti al primo anno comunque anche in amici che producono magari in maniera un pochino più hobbistica che vanno appunto a mettere gli effetti senza porre nessuna attenzione appunto al gain. Ora in questo caso la prima cosa che dovrò fare invece utilizzare l'utility, recuperare come abbiamo fatto precedentemente sul master dei decibel di spazio, quindi in questo caso sapendo che arriva meno 0.64 abbasserò un'altra volta di 6 decibel così da avere almeno 6 db di headroom e a questo punto metterò in solo, però adesso insomma sto ragionando più come esempio quindi non stiamo veramente mixando, è più per farvi capire il concetto, solitamente non amo mettere in solo quando processo all'interno del mix, ma andrò a mettere appunto degli effetti, ad esempio potrei decidere di equalizzare la mia batteria, poi magari di mettere un compressore, quindi cercherò il mio compressore e poi potrei decidere magari di distorcerla, di mettere ad esempio il drum bass che vedrete più avanti uno stupendo effetto che fra le varie può anche distorcere. Per ora parto, quindi spengo i due secondi effetti, parto con l'equalizzazione, quindi volevo tagliare un po' di basse, compenso leggermente ma ne parleremo più avanti dell'equalizzazione. È stata oltre un'equalizzazione creativa, non sto ancora ragionando molto al mix, ma vedete che già semplicemente avendo fatto questa piccola l'equalizzazione ovviamente ho bruciato un dbd headroom. Andiamo avanti. Ora vedete che il mio compressore non sta ancoraggendo ed ho tutto lo spazio di manovra di cui ho bisogno avendo abbassato l'utilità all'inizio, invece laddove non lo avessi fatto qua sarei già sostanzialmente in compressione, qui adesso comincio a comprimere. e vado anche nel mio drum bass. Ora come vedete nonostante io abbia tre effetti ho ancora tre decibel di headroom. Andiamo adesso a gruppare, quindi grupperò dopo averli selezionati con shift attraverso tasto destro il comando group o anche lo shortcut command d per farvi sentire il prima e dopo. Ora ovviamente per quanto mi piace molto di più il suono processato successivamente ecco che abbiamo un secondo concetto importantissimo che introduciamo oggi, sempre relativo alla gain structure. Quindi innanzitutto abbiamo visto l'importanza di avere sempre headroom e quindi rispettare innanzitutto il gain di ingresso all'interno di una catena di effetti e ovviamente anche di più effetti, quindi potrei avere anche un altro utility ad esempio nella mia catena, questa infatti è la magia di avere questo simpatico effetto, no? Poter avere appunto un controllo del gain sostanzialmente in qualsiasi punto della catena. Ma un altro concetto che voglio subito mettere alla vostra attenzione è il concetto di compensazione del gain, cioè nel momento in cui noi stiamo facendo questa comparazione fra il suono prima del nostro processamento e dopo il nostro processamento, per quanto appunto ci possa piacere di più, siamo però ingannati dall'aumento del gain. Cioè una cosa a cui dovete stare attentissimi è cercare di compensare sempre il gain di uscita da una catena di effetti o da un effetto in modo tale da poter comparare correttamente il prima e dopo senza essere ingannati dall'aumento del gain. Ricordatevi uno dei principi della psicoacustica è proprio che qualsiasi cosa suona più alta tenderà ad apparirci più piacevole all'ascolto e quindi ovviamente andrà a danneggiare il nostro giudizio. Per cui cosa farò in questo caso? Avendo gruppato la mia catena di effetti la completerò con un piccolo utility. Eccolo qui. Adesso andrò ad abbassare, penso un paio di dB, ovviamente adesso dovrò testare ad orecchio sostanzialmente. Adesso andiamo a vedere appunto, spingendo e accendendo se il volume è sostanzialmente lo stesso e possiamo quindi valutare meglio quello che abbiamo fatto al suono. Proviamo. Prima. Il gain è quasi uguale. Forse c'è ancora un dB più o meno, quindi vado a levare un altro decibel. Prima. E dopo. Ora è molto più chiaro quello che siamo riusciti a fare. Tra l'altro se vedete adesso quando faccio AB, o meglio quando comparo il prima e dopo, ho sostanzialmente anche lo stesso livello di dB qui di RMS quasi. Anche se in realtà non è proprio identico perché, per favore, avendo equalizzato, avendo compresso e distorto abbiamo un nuovo timbro. Quindi gli RMS sono leggermente aumentati, abbiamo dato più carattere al suono, ma grazie ad aver rispettato il nostro gain sia in ingresso e anche in uscita per poi poter comparare, abbiamo lavorato in maniera corretta e quindi abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Ora vi ripeto, questo è un concetto che può sembrare banale ma è in realtà importantissimo e che se imparerete ad utilizzare correttamente fin dall'inizio, ma anche ovviamente se siete degli utenti più esperti, implementerete nel vostro workflow da subito, vi darà dei risultati veramente importanti. Ora voglio farvi, prima di finire il video, notare una cosa molto molto diciamo spesso sottovalutata che ovviamente in questo caso sostanzialmente degli effetti di Ableton ma ci capiterà tantissimo durante i prossimi video e solitamente immagino capiterà anche a voi nel vostro lavoro quotidiano di utilizzare dei plugin esterni, ad esempio appunto di marche che simulano delle macchine analogiche, insomma degli effetti che vanno a ricreare magari dei macchinari che esistono o meno in natura ma che hanno appunto una risposta molto dettata dal gain. Ora in tutti quei casi sarà ancora più importante gestire il nostro gain. Ora nel caso di questa catena che abbiamo fatto, due degli effetti che rispondono a queste caratteristiche sono il compressore e il drambas. Perché? Perché sia il compressore sia il drambas rispondono in maniera sostanzialmente cruciale al livello di input. Perché? Perché il primo appunto comprimerà in base al livello che riceve e il secondo distorcerà, saturerà proprio in base al livello di ingresso. Ora ovviamente le Q8 che invece è un effetto che non risponde alle caratteristiche prima annunciate, cioè non è un effetto che simula un macchinario analogico ma è un EQ digitale neutro. Ecco in questo caso il livello di ingresso è non per quanto importante, perché ovviamente ci serve per poter processare il segnale senza poi avere in uscita un segnale in clip, ma comunque le Q8 non avrà una risposta diversa in base al gain che riceverà. Quindi andando a sintetizzare questo concetto importantissimo di gain, di gain structure all'interno appunto del mix, del mastering, ma in realtà di tutti i processamenti audio partendo dal recording fino al mastering. Innanzitutto dobbiamo rispettare, diciamo, dobbiamo avere headroom durante tutti i passaggi, quindi dalla registrazione in cui cerchiamo di rispettare appunto dei livelli di ingresso ai convertitori donei fino ovviamente a qualsiasi tipo di processamento audio. E in questo caso abbiamo appunto utilizzato il nostro utility per recuperare l'headroom all'inizio sul master perché clippavamo, ma successivamente nel nostro, diciamo, nella nostra catena per processare la batteria. Ma poi dobbiamo anche ricordarci di rispettare sempre i gain di uscita soprattutto per poter comparare correttamente il prima e dopo, perché altrimenti saremmo ingannati dall'aumento del gain, soprattutto quando andiamo appunto a fare degli interventi che aumentano appunto il gain percepito del nostro segnale, tipicamente distorsori, compressori, equalizzazioni molto creative eccetera. Ma un altro concetto importantissimo è che determinati device, in questo caso abbiamo visto il compressore e il drambas che è una sorta di saturatore, mettiamola così, alcuni plug-in appunto cambiano proprio la loro risposta in base al gain d'ingresso, per cui in quei casi dobbiamo stare ancora più attenti al gain con il quale andremo a sollecitare la risposta del nostro device. Voglio puntualizzare che alcuni plug-in hanno proprio delle specifiche all'interno del manuale, poiché appunto magari emulano, simulano dei macchinari analogici esistenti e ci indicano proprio i gain corretti con i quali far comportare appunto i nostri plug-in. Penso ad esempio a tutte le simulazioni di nastri analogici, ma insomma vedrete durante i miei prossimi video farò spesso riferimento a plug-in nei quali dovrò stare attento appunto a questi gain d'ingresso. Un ultimo concetto, o meglio non un ultimo concetto, scusatemi, un ultimo consiglio che voglio darvi è di andare a scaricare un plug-in gratuito del quale vi metterò il link nella bio che ha il nome di Volume Compensator, che in realtà è un plug-in molto semplice ma che in realtà è utilissimo proprio per fare quello che precedentemente vi ho mostrato, cioè compensare il gain di uscita per poter comparare correttamente i nostri effetti. Ma penso sia qualcosa che sicuramente vi risulterà utile e che penso insomma farà parte del vostro lavoro quotidiano. Quindi vado a caricare il mio Volume Compensator, ora lo trovo, avendolo già scaricato all'interno delle mie librerie, è un plug-in gratuito di Max4Live, ora lo vedete, lo caricherò qua e sostanzialmente questo plug-in è molto semplice, vi faccio vedere cosa fa. Ora raccolgo per il momento questa catena di effetti e il trucco è andare a mettere sia prima che dopo il nostro Volume Compensator. Il primo sarà un sender, quindi invierà il segnale, il secondo lo riceverà e attivando la modalità automatica quello che farà questo plug-in è semplicemente riconoscerà quanto è aumentato il gain e lo compenserà in automatico, risultando appunto una risorsa veramente molto molto utile durante il nostro processamento audio. Quindi vi faccio l'esempio in questo caso, vado a spegnere l'utility che avevo utilizzato per compensare manualmente e a questo punto quindi guardate cosa succede. Ora se io, non so se avete notato, si è sentito proprio che ha abbassato il volume, a questo punto posso fare una B gruppando tutto quanto e ho i volumi perfettamente identici o comunque quasi identici senza la necessità di dover andare a utilizzare appunto una compensazione manuale che appunto spesso è un procedimento fastidioso e che quindi insomma vogliamo facilitarci. Vedrete che alcuni plug-in, ma ovviamente di parti terze che qui sono a pagamento, come ad esempio Zone, insomma alcuni plug-in devoti al mixing e al inganno proprio all'interno una compensazione del gain come quella che avete visto. Quindi spero che questo video sia stato di vostro gradimento, ovviamente stiamo affrontando delle tematiche in questa parte dei video che riguardano mixing mastery molto tecniche, quindi spero appunto che vi sia subito d'aiuto quello che abbiamo visto, vedrete che man mano che andremo avanti i video diventeranno sempre più pratici e potrete sicuramente divertirvi insieme a me sempre di più, però ovviamente l'apprendimento passa necessariamente anche attraverso dei concetti spesso teorici che però sono fondamentali per la buona riuscita del nostro lavoro. Per cui vi abbraccio forte a tutti, insomma vi aspetto per il prossimo video, ovviamente non dimenticate di contattarci per qualsiasi domanda o chiarimento, penso nel giro di massimo una settimana, dieci giorni dal release di questo video, vedrete il primo video di Sound Design insomma che sarà spero altrettanto divertente e interessante e vi mando un forte abbraccio. A presto!